Tipica italiana anche lì, tipica italiana, sospendo uno, l'altro no. Assolutamente sì e direi che come ci insegna la storia, un po' il calcio e soprattutto la Lega Calcio è un po' l'esempio, lo specchio dell'Italia perché alla fine si fa sempre fatica a mettersi d'accordo e quello dove noi siamo sempre i numeri uno sono le polemiche. È evidente che questa è una situazione di assoluta emergenza, in qualsiasi caso, qualsiasi decisione avrebbe scontentato qualcuno, però io credo che se noi partiamo dal presupposto che prima di tutto viene la salute dei cittadini e quindi dei tifosi, io credo che o non si giocava nessuna partita o si giocavano le partite e quelle che dovevano essere giocate a porte chiuse andavano giocate a porte chiuse. Perché ora ci troviamo in una situazione di completo disagio e difficoltà, la Lega praticamente si è messa all'angolo da sola perché praticamente adesso non ha date a disposizione per poter gestire queste emergenze e rinvio di partite. Capuozzo! Capuozzo!